Spendete in capo e onorate la patria! Aggiungiamo Kaiser! Kaiser sotto controllo! Controlliamo Berta! Siamo in passaggio! Aprire il fuoco con l'artiglieria! Bersaglio confermato! Bombe a benzina a fronte! Fuoco d'artiglieria nemico! A riparo! Manca poco per Anton! Aprire il fuoco con l'artiglieria! Bersaglio confermato! Terribolo Pia a fronte! Bomba Britz X pronta! Sbattamento Britz X in corso! Contatto nemico ad Anton! E lì volo Pia in volo! Il nemico cattura Anton! Il nemico cattura Berta! Il nemico cattura Kaiser! Volo di ricognizione concluso! Contatto nemico a Kaiser! Kaiser catturato! Contrattaccare! Delivolo Pia in cerca di bersagli! Paracatutisti in volo! Prendiamoci! Contatto nemico a Bertha! Bombe a benzina a fronte! Inceleriamoli! Delivolo Pia operativo! Delivolo Pia in volo! Contatto nemico a Kaiser! Il nemico cattura Kaiser! Paracatutisti in volo! Contatto nemico ad Anton! Il nemico prende C! Volo di ricognizione concluso! Bombe a benzina a fronte! Capito! Paracatutisti in volo! Contatto nemico a Kaiser! Perdiamo l'obiettivo Kaiser! Il nemico prende B! E a San Vini! Kaiser catturato! Contrattaccare! Il nemico cattura Anton! Itragliamento nemico! Perdiamo l'obiettivo Anton! Perdiamo l'obiettivo Bertha! Colpi d'artiglieria sulla zona avversaria! Il nemico ad Anton! Perdiamo l'obiettivo Anton! Perdiamo l'obiettivo Anton! E inceneriamo l'obiettivo! Il nemico prende B! Paracatutisti in vici di volo! Il nemico prende A! Eccellente! Un risultato!